Siamo a San Vito in via Vizzarro dinanzi a dei maxi raccoglitori per la raccolta differenziata, nello specifico per il vetro, però c'è la pessima abitudine da parte dei cittadini di non usarli per il vetro ma diventano raccoglitori di ogni specie di rifiuto. Noi, Irene Lamanna, presidente dell'Associazione Tarnato Turismo, critichiamo e censuriamo molte volte i nostri amministratori però ora bisogna, come si suol dire, tirare le orecchie alla inciviltà di certi cittadini, non tutti ma di molti. Beh sì, effettivamente non possiamo dar sempre la colpa agli amministratori che talvolta a volte fanno il possibile per essere quanto più presenti possibile sul territorio, scusate il gioco di parole, ma abbiamo riscontrato in notevoli situazioni, questa è una di quelle, che la buona educazione, il senso civico dei cittadini San Vitesi in questo caso, la Mesi, ma anche Tarantini in generale, talvolta è un po' lascivo. Non rispettano i sensi unici, non rispettano gli orari della ridifferenziata, ma soprattutto non rispettano il loro stesso territorio. E qui ci troviamo di fronte ad uno scempio e di pericolo. Abbiamo anche vetri a terra. Vetri a terra, bambini che qui possono andare in bicicletta, qui ci sono le case della bambina. Specialmente ora che siamo in estate, molte volte a piedi nudi si corrono grossi rischi. Certo, ma poi c'è la gente che fa sport, che fa corsa, insomma veramente un pericolo notevole. Però a questo punto occorrerebbe porre dei rimedi e disporre, predisporre dei controlli da parte di soggetti istituzionalmente preposti. Sì, io non sono molto d'accordo su questo argomento con chi ritiene che la multa o la sanzione non debba essere fatta. Perché ormai sono dieci anni che proviamo a non fare multe e sanzioni e abbiamo visto che i risultati comunque con la prevenzione non si ottengono. Pertanto dopo aver usato la carota è il caso di usare anche il bastone. Un noto proverbio napoletano che dice mazze e panelle fanno i figli belli, panelle, cioè carezze, senza mazze fanno i figli pazzi. E mi sembra che siamo arrivati alla totale pazzia a Taranto, un po' da parte di tutti, me compresa, perché tanto sicuramente qualcuno lo dirà e quindi io lo anticipo. Certo, io sono un po' esasperata da questo senso di inciviltà che ormai pervade sempre di più. Magari anche un appello alla Polizia Municipale a far sì che vengano predisposti dei controlli sistematici per beccare questi incivili. Certamente, alla Polizia Municipale ed eventualmente se il corpo della Polizia Municipale dovesse essere carente, perché sappiamo che comunque i numeri sono quelli che sono. Le centraliniste sappiamo pure che quando rispondono non sempre sono gentili, però non fa niente, quello dipende dal ciclo del mese della donna, però sappiamo altrettanto che sarebbe opportuno magari dare incarico a qualche gruppo di protezione civile che insomma adoperano anche sull'eporano per esempio in queste vicende. Grazie a tutti.